Il direttore ha mangiato pesante Qui ci vuole Vigorsol, il pronto soccorso alito Vigorsol, il pronto soccorso alito, è il chewing gum in confetti dal gusto fresco, freschissimo Vigorsol, il chewing gum che ti dà alito fresco Vigorsol, vince E per chi lo preferisce c'è una novità Vigorsol senza zucchero Vigorsol